Sabato sulla regione arriverà un fronte freddo decisamente marcato dal nord Europa, fronte freddo che porterà una svolta decisa del tempo. Per la giornata di sabato avremo cielo quindi coperto sotto alla regione con piogge moderate a ovest abbondanti a est nevicata in montagna da prima oltre 1000 metri ma in giornata la quota neve si abbasserà verso i 600 metri specialmente sul Tervisiano dove dovrebbe nevicare appunto fino a fondo valle. Possibilità di qualche temporale anche sulla costa specie in giornata quando soffierà bora sostenuta in pianura forte sulla costa con raffiche anche oltre 100 km orari a Trieste. Le temperature minime in serata saranno piuttosto basse decisamente più basse di quelle che avremo di primo mattino quindi se al mattino avremo 12 gradi nel pomeriggio scenderemo verso i 4 5 gradi sia sulla pianura che sulla costa. Per la giornata di domenica nuvolosità variabile il tempo tenderà a migliorare ci sarà residuo a bora sulla costa in mattinata a temperature più basse della norma del periodo con massima intorno ai 10 gradi su pianura e costa. Per la prossima settimana continuerà il freddo con variabilità. Dall'osservatorio metro regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.